Nel giorno della festa dell'Assunta nella chiesa cattedrale, l'Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzio Seppe, ha preseduto la solenne Messa Internazionale, alla quale hanno partecipato turisti italiani e stranieri, gruppi etnici che vivono e lavorano in città, fedeli napoletani, ai quali ha rivolto un saluto e un auguro in varie lingue. Il particolare evento è stato organizzato dall'Ufficio Diocesano della Pastorale del Turismo, diretto da Don Salvatore Fratellanza e dall'Ufficio Migrantes, diretto da Don Pasquale Langella. E' la vocazione di tutti quella di tenere davanti agli occhi la meta alla quale tutti siamo destinati. E allora il cielo è la patria di tutti. Al cielo siamo incamminati mentre pellegriniamo su questa terra. E allora dare quella tonalità di universalità, di cattolicità a questa celebrazione è il modo migliore per dire il mondo intero, l'umanità è invitata a guardare colei che in anime e corpo è assunta in cielo. Dopo aver trascorso alcuni giorni con sacerdoti e laici presso il santuario della Madonna di Pietralba in provincia di Bolzano, il Cardinale Sepe al suo riente a Napoli ha ripreso dunque gli impegni propri del suo ministero episcopale alla guida dell'Arcidiocesi. Anche quest'anno l'Arcivescovo ha celebrato con i vescovi ausiliari, i sacerdoti, i religiosi e i diaconi permanenti la vigilia della solennità dell'assunzione della Beata Vergine Maria alla quale è dedicata la Chiesa Cattedrale con una messa nel Duomo.